Tutti i ballerini si erano allontanati dai loro cari, quelli che gli erano stati accanto per 30 anni. È stata la prima volta in cui abbiamo sentito parlare di come venivano trattate le persone a Shekina. Per me è stato un punto di svolta, perché ho capito che forse mi trovavo in un ambiente poco sicuro. È stato lì che io, Concrete e Kylie ci siamo parlati. Una volta che la prima persona ha raccontato ciò che le era successo, si è fatto avanti qualcun altro. Avevamo tutti vissuto cose simili, ma nessuno l'aveva mai detto. A quel punto abbiamo capito che tutti noi avevamo vissuto delle cose strane. Sentire quelle storie è stato sconvolgente. Il modo in cui eravamo stati trattati, e io non me ne ero accorta. E questo era il periodo in cui ci diceva «Postate le vostre uscite, fate finta di stare in giro con le vostre famiglie, fate sembrare tutto normale». Non l'aveva mai fatto prima. In quel momento abbiamo capito che... Era una setta. Ho pensato «Che cosa facciamo?» e qui è stata sconvolgente. E qui ci diceva «Che cosa facciamo?»